Il negoziato tra i governi nazionali sul Next Generation Europe, il Recovery Plan e il bilancio primario dell'Unione continua e sebbene spesso venga dipinto come uno scontro tra i frugali da un lato e gli altri, in realtà sono molti i piani di intersecazione, di incontro e di scontro tra i vari governi, dagli amici della coesione che non vogliono rinunciare o ridurre i fondi di solidarietà all'interno dell'Unione verso i paesi meno ricchi e non dimentichiamo che l'Italia è il secondo paese a ricevere fondi di coesione in termini assoluti dopo la Polonia, così come gli amici della politica agricola e anche in quel caso l'Italia è un paese che riceve una quantità di fondi molto significativa, piuttosto che quelli che puntano molto sul Green Deal e sulla trasformazione ambientale, quelli che vogliono salvaguardare i fondi per i giovani e così via, cioè la realtà è che tutti gli stati hanno i loro interessi e tutti vogliono salvaguardare certi capitoli di spesa, al contempo però nessuno di loro riesce ad avere una visione complessiva, cioè non si può mantenere tutti i capitoli di spesa pregressi, classici, al contempo aumentare le competenze e responsabilità dell'Unione in settori nuovi e mantenere il bilancio come era, intorno all'1% del PIL e senza creare nuove risorse proprie, una vera fiscalità europea in grado anche di sostenere una capacità di indebitamento comune a livello europeo. Questi sono i nodi gordiani da sciogliere. La pandemia ha richiesto una risposta straordinaria dell'Unione con il Recovery Fund, il Next Generation Europe, che implica di mettere sul campo una riforma dei trattati volta a garantire una vera fiscalità europea e una vera capacità di indebitamento comune a livello europeo.